bell'amici ritorniamo su plug in evolved con zan e voi e anche marco virus marco drams vai allora vi abbiamo lasciato con pasta e fagioli fai vedere il virus fai vedere il virus fai vedere la schermata del virus quadrato quadrato ok pasta e fagioli ok il nuovo virus che è molto allora si diffonde con la pasta con le puzzette alza la voce vai 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 russia 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 manda avanti manda avanti a sette punti sette punti portata qualcosa adesso con 9 sì visto che la partita prima ti ho detto io che cosa fare con l'altro virus si chiamava the walking dead vero e non è non è andata tanto bene adesso fai tu voglio vedere una partita di un campione perché tu sul cellulare arrivavi sempre avere partite vinte passaggio le pasta e fagioli guarda le infettività com'era non so che cos'è fatto prima qua non fa nulla e la fanca è un po' di letalità norvegia bene 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 pasta e fagioli in norvegia che vanno e tutti quanti a scoppia bolle rosse ragazzi stanno tutti mangiando la pasta con i fagioli basta che i governi non chiudono la possibilità di mangiare pasta e fagioli perché se chiudere i governi la cosa di mangiare la pasta con i fagioli siamo fottiti qua siamo fregati scusate la parola pasta e fagioli si diffonde ragazzi una sterminicidio di allora evolviamo sta pasta e fagioli la letalità hai fatto qualcosa prima che era una letalità assurda che cos'era prima hai spostato il problema è che fa venire i problemi si sta a giocare i problemi sono veramente reali ok vediamo un attimo ok facciamo venire i problemi alla gente al cervello ma devi guardare sempre sotto perché è bello e bello far venire i problemi ma bisogna sempre vedere letalità non c'è niente e non è letale vedi sì ok stiamo andando il mondo una volta poi che è contagiato il mondo non ci dà più punti ma non ci dà più punti poi dopo quindi prima ne avevamo 100 roti li abbiamo spesi tutti per la cura e non avevamo più punti per far nulla e questo è un problema reale lui da un tot di punti quando si infettano e poi non ce l'ha più quello si e non lo conviene perché costa e poi non abbiamo modo di sviluppare la malattia questo è un'altra cosa che diventi letale deve deve diventare letale su roba e al massimo aspettiamo questo è letale questo bisogna andare ce l'abbiamo punti quanto altri 14 punti e comincia la cura a un certo punto quando il mondo è mezzo a 3 milioni di morti e ragione ne vedo 100 milioni stanno vorrei guarda lì, quello di prima, questo e lo so ma non risultiamo, sai che quando risultiamo poi arriva la staccavolo di cura pasta e fagioli nella lista nera dei menù di tutti i ristoranti pasta e fagioli, ragazzi è mortalissimo, attenzione, attenzione a mangiare pasta e fagioli che può partire il nuovo virus cominciano con la cura abbiamo 24 punti facciamo quello ok adesso dobbiamo pensare a questo dobbiamo pensare a trasmissione secondo me è abbastanza dobbiamo fare ancora trasmissione guarda la gente lì e guarda la cura eh appunto sta andando troppo avanti la cura vai con sintomi, vediamo un attimo i sintomi ancora quelli lì del cuore che c'è grigi, cosa sono? eh che fa 28 punti, dobbiamo fare questo un completo collasso dell'apparato di genere va la letalità eh quello eh sì 24 puoi farlo bravo guarda i morti eh 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 sì poverini ma noi dobbiamo, non siamo un virus quindi batteri noi siamo batteri eh sì di gamble guarda questo quanta gravità eh oh va la gravità vai facciamo orca non è che la gravità poi fa fare più veloce le cure? no di che la gravità secondo me sarebbe la roba che sì quanto è grave un virus però non è che poi questi stronzoroni no 22 è scesa è scesa interessante come deduzione è scesa di due punti chiaramente poi sale no di tanto eh tre punti è scesa bisogna fare quello che hai fatto adesso perché stanno morendo stanno morendo quindi quello che hai fatto adesso continua vai ancora in malattia vai in malattia vai in malattia vai ancora in malattia vai ancora in malattia no sintomi sintomi cosa c'è che è mortale ancora questo aumenta tanto riesce a farlo? quel pugno che cos'è questi qui? un'infiammazione inibisce 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 i processi colporei ancora vai 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 posso te colpore? questo è letale vai 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 oh c'è gente che si stava curando però guarda stiamo togliendo la cura noi eh 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 non hai detto che vuole non hai detto che vuole 4 miliardi e 2 miliardi di centri aspetta aspetta prima di aspetta un attimo 82 vai vai fai ancora qualcosa guarda quanto è letale questo oh questo 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 no no quello sopra quello del cuore non posso ah intanto eh quello quanto costa? 43 eh aspetta allora tanto 20 punti tutto muoio tanto mi sa che non riusciamo neanche ad arrivare perché già no abbiamo già vinto vai 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 di riusci a farlo di riusci a farlo di riusci a farlo vai guarda quanto vuoi adesso allora a noi dispiace ragazzi eh però però è sempre un gioco ora cura cura sì no non c'è praticamente storia il mondo con pasta e fagioli muore allora ragazzi mangiate il meno possibile e fate meno puzzette perché se no mangiate la pasta e fagioli strade marroni strade marroni anche il trofeo proprio come se fosse la M marrone bella lì bella lì pasta e fagioli oh aspetta un secondo penso che dipende dal nome perché eh sì penso che pasta e fagioli è fulminante perché fai un'altra malattia fai un qualcosa perché vorrei che poi qualcuno si sveglia ok e gli ultimi 8000 riescono a sopravvivere come in The Walking Dead che prima doveva ammazzare tutti invece no 1000 1000 900 adios adios mondo adios amigos resistono solo i batteri reali e i funghi 1 alcune persone sane sono sopravvissute c'è scritto 0 infetti tutti morti eh vedi che è un casino non dobbiamo vincerne una allora dobbiamo infettare ancora un po' di più ma erano tutti ma che ne so io e vedi riprende la fine secondo me è quello che dico io Leo allora se tu infetti un miliardo di persone e troppo letale muoiono un miliardo rimangono 300.000 in vita non ha potere di infettare perché sono morti tutti quelli che ce l'avevano quindi bisogna infettarli tutti e ammazzarli tutti andava bene tutto quello che abbiamo fatto tranne che poi alla fine abbiamo speso i punti solo per ammazzarli e non per hai capito? la rifacciamo la rifacciamo la ricominciamo? si rigioca rigioca pasta e fagioli non metti pasta e pomodoro nooo pasta e fagioli allora siamo partiti da dove? dalla Russia ieri per io partirei ancora dalla Russia allora dai gioco io commentiamo eh si adesso aspetta fammi fare solo un secondino poi giochi tu perché sei più veloci di me a fare le cose anche se mi piace un sacco però mi piace anche commentare e stare vicino a te Zane grande Zane Boy ragazzi seguite anche il suo canale allora 14 trasmissione acqua si subito non ho capito cosa? abbiamo perso vabbè si anche per quello che hai detto ma perché? noi non abbiamo infettato tutti eh c'erano persone che erano state curate è che non hanno che bisognava infettarli con qualcos'altro oltre l'acqua e la roba allora vedi no? adesso per dire acqua zanzare ci sta di brutto e io farei i ratti ok? adesso li infettiamo dopo pensiamo a fare aspetta vediamo eh vedi 26 vedi come sale l'infezione cioè devono essere tutti infetti se no fa il problema ok adesso l'infezione va a palla si è toluta perfetto quindi andiamo di sintomi cominciamo effettività dobbiamo sempre dare un occhio a quello che cuore polmoni dai cominciamo a dare i sintomi e cominciamo un po' alla volta secondo me cominciamo a fare le abilità che gli cominciamo a dire stai calmo puoi fare quello che diminuisce la ricerca già? si qual è? questo? si ok è un po' il pezzoso che mi ha fatto caspita pasta e fagioli è veramente una bomba raga allora questo che cosa fa allora no sintomi dobbiamo di fare un po' di sintomi effettività ragazzi aspetta trasmissione non posso fare nulla questo? si ok aspetta tanto da se ne arriva un vuoto ho perso qualcuno? ok fai un altro po' allora trasmissione fai che va l'acqua 2 zanzara arca ma quanti punti è? questo che cos'è? da un po' di letalità quello lì eh dobbiamo dare un po' di letalità qua il globulo perfetto perché possiamo già prendere il cuore quello che batte di già? si quanti punti era? 40 no io non farei un attimo con calma letalici eh guarda gli infetti ecco vedi è quello che dobbiamo salire al massimo ah ma quello lì è la Germania devi cliccare cliccare ah si aspetta ok eh infatti eh la Germania è piena però eh 48 aspetta un attimo questo che cosa fa? oh fa il cuore cacchio eh sì che lo facciamo al cuore andiamo un attimo le abilità perché poi tra un po' abilità fai quello lì che resista a tutti i clip ok è bello che è bello è carino carino è difficile puoi anche se vuoi fare dei filmati e poi li mettiamo sul canale eh giochi tu ok ok allora puoi fare la ricerca al massimo allora la ricerca quant'è che è? questo sarebbe? no questa ok dobbiamo fare la trasmissione secondo me perché acqua al 2 acqua al 2 poi ti passa i piccioni i piccioni penso che attaccano no i piccioni non scaccano fanno le cosine e cadono sulle macchine sulla gente sì poi perché stanno mettendo le fonte sì perché è la cura eh sì 46 allora questo le pecore e l'acqua abbiamo ok ha la polvere e il sangue abbiamo fatto tutto praticamente quindi se non parte adesso avete capito a triangolo ok abbiamo 27% di persone vive 46 morte mamma mia come lì allora e il 20 per 6 infette quindi sto 27 va va portato capito se no morti 3 miliardi adesso tutto sui sintomi tutti sui sulla trasmissione dobbiamo fare ok ok no no tieniti i punti tieniti i punti per quello per questo il patogeno lo usano aspetta vai su no aspetta però guarda qua quanto aumenta no ma non c'abbiamo punti ma aspetta guarda quello scusa oh cura cura cazacchi stancade ok guarda questa fammi leggere 35 punti il patogeno usa i linfociti per i prodotti aumenta l'infezione si 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 specialmente nelle regioni povere va bene facciamo tanto lo possiamo fare già adesso guarda no direi di fare queste perché sono importanti e poi le abilità non vorrei che cominciano a curare di brutto ok allora vediamo un attimo vediamo un attimo quello che che fa di più è polvere o non scherza ok io farei ancora di più trasmissione facciamola al massimo no amore i sintomi muoiono ah simbile della trasmissione si effettivamente i sintomi che si trasmette i sintomi che ti trasmette hai ragione aspetta non vorrei che allora sintomi cos'è questo posso farlo no aspetta fai l'occhio l'occhio e le lezioni questo questo ok ciao nonna ciao mamma ok allora triangolo perfetto secondo me tutti infetti tutti infetti allora penso che sono morti in brasilia in america la russia in ucraina allora guarda infetto zero morti morti cura morti tutto in giappone in giappone va giù si assolutamente c'è qualcosa qui eh in europa un po' trasmissione 33 punti ragazzi è qui la russia è la russia che c'è ancora un po' di gente eh ma adesso non ci dà più punti ragazzi eh ma vedi che c'è ancora un po' di verde secondo me si clicca l'acqua perché basta e fagioli io non vedo persone in salute zero in salute zero infetti allora mancano solo le infetti aspetta allora voglio aspettare che forse vinciamo non voglio bufare allora si sta giocando però se vinciamo esulto ragazzi eh perché è la prima partita dopo tre video non c'è neanche più cura eh si pasta e fagioli eliminato con successo ogni forma di vita sulla terra viva pasta e fagioli virus ah 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 solo su marcodramsgameschannel potete vedere la pasta e fagioli che stermina il mondo amici di tiktok grandi si facciamo video su tiktok oh perfetto ok aumento atp quindi se facciamo e in comi vediamo il pacchetto contaminativo distruggi una fortezza di z compi attacco nucleare contro la cina e cosa ti hanno dato adesso forte eh ci hanno dato i patogeni fai nuova partita nuova partita gioca metti i batteri tanto non giochiamo se vuoi fare no no ne facciamo un'altra ne facciamo un'altra ecco vai attp allora continua casuale no adesso lo cambiamo nooo nooo non posso più cambiarlo non posso più cambiarlo no dai bandini aspetta non posso cambiare no ragazzi scusate allora facciamo principale gioca batteri attp c'è già dentro casuale quadrato allora dai nome nome pomodoro ma cosa vuol dire pomodoro non ha senso vabbè no 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 dai pomodoro se vuoi pomodoro facciamo pomodoro il virus dei pomodori pomodramus pomodramus ci sta pomodramus del pomodoro il virus dei pomodori vai allora falla tu e facciamo l'ultima partita poi salutiamo i nostri amici però la cura ragazzi la cura è difficile Leo dobbiamo farne una con la cura dobbiamo farne vediamo se abbiamo il tempo di fare una dopo di questa con la cura eh perché la cura è fondamentale posso partire però la faccio partire adesso perché no eh falla partire dove vuoi posso anche la cina eh ho visto che comunque per partire non è niente di male eh è già partita? sì ho messo subito l'acqua forza forza guarda ho messo subito l'acqua ho messo un pochino la gravità pomodrams pomodrams inizia di fondersi pomodrams pomodrams virus pomodrams pomodrams ha 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 anche per ai ok dai dai forza di sotto la effettività F2 è pesante Scusate, è andato in Turchia ha finito in Turchia il pomodron Sì, si, si, il pomodron è in Turchia Scusate, è finito in Norvegia con il pomodron si attaccava con il pomodron si attaccava Scusate, 90,000 140, 200,000 Scusate, è finito in Turchia Scusate, è finito in Turchia Ok, faccio il bestiale più finito Allora, guarda qua cosa possiamo fare Vediamo, vediamo, vediamo Zanzare, topi, piccioni bestiame 2 sangue o polvere Vai di sangue perché comunque il sangue si passa tra la gente poi io andrei di polvere perché abbiamo visto che se non contagia non riusciamo a ammazzarli comunque la prima vittoria è stata fantastica Sì, è bellissima la pasta e fagioli Pasta e fagioli Peggio dell'acqua e due Finito in Canada Oh, in America No, non so Siamo due Allora, non ha cura E sono sciuti Allora Non siamo Allora Ah 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 Di cinque ponti alla Pural II hai portato 16 punti allora facciamo come prima giochiamo un po' sulla trasmissione e i sintomi trasmissione sintomi, abilità quindi che non lo ricercano così quando iniziano la ricerca abbiamo già tanti punti abilità ricerca e non ce la fanno poi a stargli dietro perché se non vai avanti anche coi punti della ricerca non c'è niente da fare ti ricordi le prime partite quando partiva la ricerca partiva fuoco e non c'era verso cosa facciamo? sintomi o trasmissione? sintomi, 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 basta trasmissione per un po' quello lì sotto mi sembra che era questo, posso fare il cuore si si si, ah è sempre quello sotto si beh ci puoi arrivare, aspetta se no 8 punti di ene eh devi aspettare un po' quant'è che costa? eh 47 mi sembra no 32 32 un po', ci arrivo però ok cura all'1 e morti 142.000 io quando dico un numero intero poi aumenta di 200 ahah bene solo che nel gioco vedi io adesso ho la cura all'1 e guarda quanto va dentro hai messo un po' di abilità nella cura? guarda 1 eh eh io farei resistenza e cura eh anche ma penso che se metto cura mi indiviva no non credo 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 ok ho messo che resisto tutti i climi bravo però devi far portare sulla cura adesso eh oddio ho preso la cura perché sto andando 6-7% e sto andando forte ho preso la cura al 2 e la velocità vedi? è diminuita la velocità vai mutazione perfetto vai vai a far qualcosa sulla cura resistenti antibiotici bravissimo e bravo bravo adesso poi devi anche infettare eh? se no poi dopo non ce la facciamo starci dietro muore sta morendo già c'è il 28% però e attenzione con la cura perché se iniziano a partire uno dietro l'altro 41 eh puoi far qualcosa allora direi eh devi far qualcosa di a manetta tutti e tre uno magari fai quello la quella polvere o sotto le danzare ho fatto una polvere ho fatto una polvere ho fatto una polvere ok ok faccio polvere al 3 si si anche se non so se poi la polvere va così un po' tempo però ci sta boh sarà non penso che è proprio polvere penso tipo il fumo o la roba che viene trasportata dall'aria questo errobbe non penso ci fosse quello con leoted suogo riceviamo non le Cinanio di secondo sai ah buona guada buona 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 tra 35 per cento della cura è prima sono morti tutti col 30 bisogna stare attenti anche la cura e leo quindi io andrei a vedere un attimo anche la questione cura si potrebbe fare una roba allora stanno per esser contagiati c'è ancora un po poca gente cioè c'è ancora un po di gente si trasmissione con sangue o con gli uccelli con gli uccelli puoi fare gli uccelli 25 è sceso perché era il 40 la bomba tornessi per vedere le informazioni alle info brazil di chiara l'erpeco l'orlande vada tutto ma non so c'erano le fasce la bomba comica la russia ha mandato la città rula un usato mandato la bomba in cina mi sembra era trovero ma pensavo che noi avevamo infettato quelli la che lavoravano in centrale nella centrale nucleare della scuola no ok al mondo non ci sono più persone sane siiii let's go 38 per cento la cura sta diminuendo come la scuola e in io l'ho chiamato pomodrams vai che sennò non ci perdiamo troppo tempo la cura non sta andando la cura non sta andando non sta facendo niente allora adesso? guarda stanno diminuendo gli infetti sono tutti infetti quindi non ci sono zero persone sane la cura va lentissima anzi non va nemmeno la cura è ferma perché praticamente sono morti tutti gli scienziati si praticamente tra quegli 8 milioni ce ne saranno due vai manda avanti veloce così zero infetti zero infetti no aspetta un secondo ah ok ho cliccato la corrella via ok dai 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 no no oh sono ripartiti non solo 400 mila lungo pomodrams eh no prima volevo essere venuto in verde pioggia rossa trofeo pioggia di pomodoro mai mangiare pomodori crudi verdi fritti no mai mangiare i pomodori quando guardi pomodrams allora li chiamiamo tutti quei nomi così strani allora fammi vedere un attimo schiaccia il tasto questo qui che vediamo no il share il share 37 dai riusciamo a fare una veloce schiaccia il tasto share ok esci facciamone una veloce con la cura dai intanto moriamo subito perché non abbiamo capito nulla oh seguente tipo di gene è stato scoperto e sboccato bello quindi la prossima partita possiamo farla così dai fai una come cura bravissimo vediamo qui batteri possiamo selezionare no perché questa è la parte della cura se dobbiamo vincere dai 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 facciamola veloce vai casuale si si va bene basta che c'è anche trucchi hai visto vai indietro di uno trucchi quadrati ah vabbè disblocchi vabbè vai vai dai partiamo 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 fai partire che devo fare una cosa qui visto che prima era nordvid adesso sudvid dai bravo poi c'è estvid ovestvid eh si lo facciamo tutti così 20 a cavolo vai 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 inizia il gioco subito vai vai fanno partire decidita visto che devi giocare allora vai in in giappone in giappone mi piace in giappone dai qua si sicuro è un posto così vai 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 perché è evoluto ok 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 allora iniziamo un po' la ricerca c'è un'azienda e metto questi metto in pausa? no no vai 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 ok dimmi dove mettere qua iniziamo un po' ma non lo si eccolo il rossio ha più forte hai visto grande l'hai sgamato? si ed è anche qua vicino vedi 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 Faccio mandare altri scienziati come al di là, non mando. Ah no, quelle lì le sposto. Inanzio, la ricerca. La cazzucina, non ci ho fatto caso, cambia? No, cambia dalla modalità. Se sei virus, è un po' più cattiva. Se sei invece quello che vuoi. Pensa, cioè guarda, abbiamo appena iniziato la cura e già il 2. La ricerca della cura. Possiamo già vincere. Dai, 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 ce la facciamo. Faccio qua il pugnetto. Sì, sì, c'è un euro, soldi. Beh, non troppo soldi perché... Vabbè, per donare. Eh, ma va bene, però... Possiamo fare anche questi, anche le quarantene io farei già. Sì, dobbiamo le quarantene. Ok, diamo le risorse. Diamo donazioni. Dona qualcosa all'Africa, o alla Cina. Doniamo dei soldi. Non possiamo fare donazioni. Sì? Non abbiamo cura, non abbiamo risorse. Vabbè, non ho sposto niente. No. Quanto risorse serve per mettere in quarantena? Tre. Tre ognuna? Ma c'è andato nella quarantena mirata. No, dov'è già sotto. Ogni cosa. È uno. Aprile. Non mettere in quarantena. Aprile tutte. Perché apriamo i soldi, lo so, perché è una... Non è capito. Dobbiamo aprire tutte le quarantene perché poi... Una, una, una. Ok, apriamo tutti i continenti. Perché dopo ho visto che aprirli era più sicile. Come fai a dar soldi? Cioè, come fai a spostarti di lì? Quello di fianco? Eh, questo. Qual è? Qual è? Qual è? Ah, questo che cosa sarebbe? Per chiudere i soldi. Ok, soldi. Andiamo soldi a Russia. Ah, ok, tipo. Chiudiamo qualche confine. Chiudi i confini della Russia. Perché il virus è iniziato in Russia. Ok, bravo. Bella idea. Ok, adesso non puoi più chiudere. Vai. Non devi chiudere quelli. Clicca quadrato. Puoi prendere tutte le quarantene. Sì, questo bisogna prendere. Poi le mettiamo, capito? Sì. Ok. Controllo. Puoi già chiudere qualcosa? Operazioni. Vediamo un secondino qua. Perché prima abbiamo organizzato squadre di indagini. No, è già attivato così? Ah, sì. Questo che cosa fa? L'uso di unità speciali per scena all'estimento di stazioni di monitoraggio. Questo è importante, eh? Questi li hai già fatti, ne? Questo che cos'è invece? Ricercatori. Controllo? Controllo. 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 abbiamo chiuso tutti gli aeroporti in giappone due soldi diamo soldi questo chiudiamo la russia abbiamo la cura al 57 guarda quanto vuoi veloce la cura guarda nei fetti i morti sono 14 milioni i morti sono 227 milioni aspetta abbiamo ancora il 70 vai su risposta aspetta qui non abbiamo fatto niente mani mani igienizzante migliora la prevenza di controllo sedi mediche ricerca sorveglianza dei confini ok vediamo un secondo le operazioni perché sennò poi allora questo della pc avevo detto che era interessante qui vediamo un attimo potenzia gli agenti operativi che riducono la mortalità sì 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 questi li abbiamo già fatti ok perfetto questo corso l'abbiamo fatto per tutti sono questi che mi danno i punti risposta poi la schermina dov'è la mascherina che non l'avete questa si 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 è è igienizzante no 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 abbiamo più soldi se qualcosa c'è di nuovo guardare la televisione quello là è una possibilità rimuove la possibilità di personale per rinforzare la possibilità di seguire le linee di Allora, aspetta, facciamo che li dobbiamo chiudere qualche altro po', vedi che si aprono? Eh no, ma non puoi chiudere tutto quello che vuoi, è questa? Ah sì, scusa, soldi a Russia, soldi a Cina, produzione del vaccino in corso, grandi, aspetta, ah, cosa? Allora, vediamo un attimo, questo si può, no, questo li abbiamo fatti, questo non si può perché? Ah, ne abbiamo fatti, vabbè, 5 lo facciamo, l'autorità è al massimo, eh? Eh, infatti, speriamo di non... Vedi che si è chiuso ancora? Ogni tanto va via! E' questo che deve fare l'autorità, chiudiamo i due paesi, gli esami, l'inventativa di segnalare molti, l'esame tra l'età di segnalismo è fallito, caspita! Ah, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, produzione al 2, visto? Allora, abbiamo quattro e non facciamo una seta, non facciamo quattro. Chiudiamo ancora la Russia. Dona, la Russia è già chiusa. Dona qualcosa. Oppure manda gli scienziati in Russia. Sì. Ok. Porca! Andiamo di scienziati anche lì. Caspita! Si sta... Allora, chiudiamo qui e chiudiamo... Mandiamo soldi qui, in Brasile. Chiudiamo l'America. In che senso è la rilascio? Oh! C'è la... C'è la... La cura! La cura. L'abbiamo curato. Aspetta, a risultare. Aspetta. Abbiamo distrutto il suo grigio. Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì adesso si che sono veramente contento abbiamo visto tre volte di fila bella bella va bene ragazzi dai siamo alla fine del video grazie per aver seguito il mitico Zan e Boya Marco Drums Zan e Boya Marco Drums la pasta e fagioli pasta e fagioli pomodrums sudvid the walking dead the walking amogus e quello nord lì sud nord 19 hanno fallito quindi attenzione assolutamente sono le linee guide del OM Drums S non mangiate pasta e fagioli pomodoro con Marco Drums in televisione e assolutamente non andate al sud in questo periodo perché vi becchiate un virus mortale chiaramente stiamo scherzando si scherza e ci vediamo alla prossima puntata di questo gioco settimana prossima giusto Zan e ne facciamo un paio da settimana così ci divertiamo e ci vediamo al prossimo video di qualsiasi altra cosa mi raccomando di seguire Marco Drums Games su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord lascio il link in descrizione con Twitch dove faccio le live all'ora 21 faccio tutti i video unboxing, tutorial e tante tante altre cose su YouTube iscrivetevi, commentate e mi raccomando seguite e fate pubblicità il mio canale Marco Drums Games e cliccate tranquillamente su LinkedIn che vi porta a una pagina che vi apre praticamente tutti, tutti, tutti i link dei social ciao amici alla prossima Plug Inc Evolved che c'è sia l'infettare col virus che anche il curare con la cura e il Covid-19 ciao ragazzi Grazie